In merito alla situazione catastrofica del comune di Viareggio sappiamo bene che il Tar ha intervenuto per invalidare le elezioni. Abbiamo fatto un atto e chiediamo conto alla regione e soprattutto a Rossi come mai intende impegnare l'avvocatura regionale per fare un ricorso relativamente alla sentenza del Tar. Riferiamo questo di una gravità inaudita. Come si può utilizzare un ufficio che ha il soldo della regione pagato dai cittadini toscani per una questione prettamente interna a un partito che è il Partito Democratico? È assolutamente illecito. Chiediamo conto di questa azione e vogliamo un'azione dell'intero Consiglio regionale tutto che si esprima in merito. Grazie a tutti.